Diciamo che è la finale più giusta, alla fine abbiamo vinto noi la regola al season, loro sono stati secondi e anche la Coppa Italia l'abbiamo disputata con loro, per cui è una Lube che ha fame, come ha fame Trento, ma intanto la prima è andata bene. Al DNA del campione, suo zio Alberto era stato re dei 400-800 metri piani a Montero al 76. Ora lui, Osmani Vantorena, dopo aver vinto tutto a Trento, vuole alzare coppe e trofei con la sua Civitanova. Ho trascurso tanto a Trento, ho vinto tanto, quindi io farò sempre il tifo per loro, tranne questa volta, per cui io l'ho detto ai ragazzi, se noi vogliamo vincere questo scudetto dovremmo vincere a Trento, quindi non sarà facile, loro non hanno mai perso in casa, ma c'è sempre una prima volta. Dai monti al mare per vincere. Bello, mi sento a casa, sì molto bello, diciamo che a Trento è casa mia, ho vissuto sei anni, ho casa là, le montagne e tutto, però qua si sta veramente bene, c'è il mare, c'è molto più caldo, per cui mi trovo molto bene qua a Civitanova. Italo-Cubano, Argento a Rio 2016, non sarà però protagonista nella prossima stagione con la nazionale, con la promessa però di ritornare. No, 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 ho già detto al coach che no, quest'estate proprio mi riposo, sono stati veramente due anni intensi, belli per me, però ho una certa età e niente, mi devo gestire, ma se il gruppo mi vorrà, la federazione è chico, quindi io al mondiale ci sarò.